Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla Bottega Didattica. In questa guida vorrei mostrarvi un servizio molto utile, si chiama Flat Icon, spero si pronunci, ed è un archivio che contiene numerosissime icone, vettoriali e non, che possono essere scaricate gratuitamente. Si tratta di un servizio che è molto utile per chiunque voglia fare della grafica, intendo per grafica semplicemente disporre di elementi grafici, come appunto sono le icone, per le proprie presentazioni, infografiche, composizioni multimediali di vario tipo. Troviamo infatti in Flat Icon circa 600.000 icone liberamente scaricabili. È utile la registrazione perché si possono avere servizi supplementari. Inoltre queste icone sono raccolte, come vedremo, in pacchetti per facilitarne la consultazione e la ricerca. Io mi sono registrato appunto per poter fruire di questi servizi. Vediamo un po', prima di tutto la ricerca. Possiamo cercare, da qui prima cerchiamo l'owin, eccolo qua. Vediamo che ci compaiono dei pacchetti. C'è uno di questi, è un pacchetto di icone. Come abbiamo detto ci sono circa 11.000 pacchetti. Possiamo cercare, vedete, per il singolo icone o per pacchetti. Adesso ci vengono mostrati i pacchetti. Decidiamo che ci interessa questo e decidiamo poi quale icona scaricare. Se io clicco, per esempio, prendiamo il pipistrello, vedete che compare un'icona. Cliccando qui la aggiungo alla mia collezione, perché si possono creare collezioni. Cliccando qui e sotto, dove c'è l'occhio, la visualizzo. Ci sono anche varie possibilità e varie combinazioni. Una volta che ho trovato l'icona che mi interessa, cosa posso fare? Ebbene, posso fare diverse operazioni. Prima di tutto, vedete, posso scaricarla in formato PNG, in formato vettoriale come SVG. PSD è il formato, mi pare, con cui si lavora con Photoshop. Ma posso aggiungerla a una collezione. Prima aggiungi una collezione, rimuovi dalla collezione. Poi vedremo le collezioni. E posso anche editarla. Vediamo. Editarla, come vedete, è molto carino, perché posso modificare il colore. Mamma mia, ecco, lasciamo così. Posso anche far comparire una griglia. Oppure posso lavorare sulla dimensione, vedete, posso ridurre. O posso ribaltare. Adesso qui non si nota quasi niente, ecco il pipistro da testa in giù. Posso anche muovere, vedete, a sinistra, a destra, in alto, in basso. Quindi, insomma, è molto carino. Una volta che ho fatto i miei aggiustamenti, posso scaricare, per esempio, il formato PNG. Clicco e vedete, mi si dà anche la possibilità di scegliere la misura in pixel. Posso sceglierla grande, la scarico in pixel. Mi si ricorda che devo attribuire il credit all'autore, poi vedremo come. E scarico la mia icona. E questo è il risultato. Ecco qui. La nostra icona in, mi pare, PNG. Bene. Questo è il sistema per scaricare le icone. Vediamo adesso come si creano le collezioni, cosa molto utile che solo gli utenti registrati possono fare. Clicchiamo su questa icona e vediamo che io ho già due collezioni. Una è scuola e una è la mia collezione di icone. Come posso aggiungere... Questa è la collezione attiva, altrimenti, cliccando qui, clicco... Vedete? Qui, ecco, diventa attiva la mia collezione di icone. Per aggiungere un'icona alla collezione attiva, mi posiziono sull'icona, per esempio, questa qui. E vedete che ho, nella parte superiore, un più è l'indicazione dell'icona delle collezioni, quindi aggiungo all'icona. Clicco e, come vedete, abbiamo l'aggiunta dell'icona selezionata alla mia collezione. Posso una collezione, la posso cancellare, la posso rinominare. Ecco qua, è salvo. Ne posso creare un'altra. Creiamo, per esempio, dicevo, un'icona, una collezione col nome scuola. Ecco, mi viene proposto un'altra My Collection e qui scrivo scuola. È salvo. Ecco, in questo modo creo le mie collezioni. Adesso chiudo questo menu e ritorniamo a questa pagina. Posso cercare, dicevo, anche per famiglie o categorie. Una famiglia è un insieme di icone raggruppate per qualche tema comune. Miscellanea, queste sono miscellane di varie tipologie, bandiere, pitogrammi e così via. Posso andare nella pagina successiva, icone elementari, eccetera, eccetera. Oppure posso cercare per categorie, ecco, clicco qui, abbiamo, vedete, varie categorie in ordine alfabetico. Animali, frecce, arte, arte design, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo facilita molto la mia operazione, qui c'è indicato anche il numero di icone. Vediamo come si può creare uno sfondo. Adesso io ho cercato, vedete, pacchetti di icone relativi ad Halloween. Scegliamo questo pacchetto e si aprirà la finestra. Qui vedete che abbiamo un pulsante, crea un modello con queste icone. Clicchiamo e abbiamo il nostro editor. Prendiamo, per esempio, questa icona, mettiamoci anche quella del pipistrello. No, non è possibile. Ecco quella del fantasma. E abbiamo il nostro sfondo. Possiamo anche modificare i colori. Possiamo fare altre operazioni. Prima, vedete, seleziono, posso ruotare, ingrandire, cancellare, posso duplicare. Insomma, posso fare tante cose. Questa immagino sia la trasparenza, eccetera. Fino a che, questo adesso è molto brutto, cancelliamo. Fino a che non avrò trovato uno sfondo soddisfacente e a questo punto lo posso scaricare e utilizzare. L'account che possediamo come utenti registrati, ma che non hanno la versione premium, ci consente di creare tre raccolte di icone e di scaricare 400 icone al giorno, che è più che soddisfacente per un docente o per uno studente. L'utente premium può scaricare più icone, ha a disposizione altri servizi, il costo è di circa 90 dollari all'anno, 10 euro o 10 euro al mese. Si può accedere a delle icone, a un set di icone più completo, creare collezioni limitate, usare funzioni di editing più avanzato e via dicendo. L'ultima cosa è ricordarsi di attribuire, citare gli autori, insomma. In questa pagina possiamo vedere come. Possiamo per esempio utilizzare questo link, copiare e incollare questo alla fine di una presentazione. Oppure possiamo, qui ci viene consigliato, inserire l'attribuzione usando questi altri link o in altri modi. Però è sempre corretto, è molto importante, signorano anche i ragazzi, accreditare correttamente, dicevo, qualsiasi risorsa. Bene, lo scopo di questa guida non era certo spiegare come funziona Flat Icon, ma era semplicemente quello di illustrarne le potenzialità e le funzionalità. Vi ringrazio, spero di avervi annoiato abbastanza e vi auguro una buona giornata. Buona giornata.